E Maria allora benedica tutti noi, benedica le nostre famiglie, benedica tutte le persone a noi cari a cui noi ci teniamo. Gloriosissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dal trono di gloria ove ti apposto regina la pietà dei nostri padri, degnati di esaurire le nostre preghiere, tu che sei la stella più fuggita della Chiesa di Cristo, il tesoro di questa città, il rifugio dei peccatori, la salute degli infermi, la speranza dei delitti, illuminaci nel cammino della virtù, consolaci nelle nostre amarezze, soccorrici in ogni necessità, favorisci quanti ricorrono al tuo potente patrocinio. Sì dunque tu la nostra madre più tenera, la nostra celeste patrona, la nostra guida, la nostra speranza. O Maria, ascolta, benedici tutti noi oggi, perché possiamo benedirti e amarti per sempre nella beata eternità. Che il Signore sia con voi, per l'intercessione e i meriti di Maria Santissima, qui venerata sotto il titolo del pilastrello, vi benedica e accompagni Dio Onipotente, questa città e tutti i suoi abitanti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Grazie.